Ciao a tutti, ecco qui davanti a voi le rovine della chiesa di San Giovanni all'Archetto, frazione di Casenda, Somolacco. Siamo arrivati per questa via che è una strada sterrata lunga circa un chilometro e fattibile anche in automobile, adesso prendiamo questo percorso che ci porterà alla chiesa di San Fidelino, un'ora e quaranta. Grazie a tutti. 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 Ecco il video dell'andata. Grazie a tutti.